Guardi la cosa e vedi se ci sta tipo 500 su 500, 100 su 100 d'acqua No, 200-200 c'ha di piatto Eh, vabbè, basta che non è zero, allora ci arriva, ok Mettici dentro un fertilizzante e un seme Non ne puoi metterti più Sto a tornare comunque perché non ci sta più Sto a tornare, oh merda Non ci sta più il coso Questo qua non c'è Dio, Andre Questo sì, questo no, cazzo Eh, pazienza Puoi mettere un'altra bocchetta Sto dentro casa Ah, è vero, perché ce ne so due che è scemo Sto dentro casa una, l'ho già craftata Oppure io un'altra, sono l'Eation Pipe Stray No, la TAP serve Ah, la TAP Basta che metti la TAP Poi c'è la casa, la nave, la nave di castello Molto bella, mo' che arrivo la vedi pure tu, Fab La nave di castello L'ho rifatta, sì, è uguale l'ho fatta E sopra ci possiamo pure mettere Non mo', però in generale Ci possiamo pure mettere almeno una catapulta Così ci mettiamo vicino alle case e le spacchiamo Case di tipo di gente di merda che non gioca più Non ho più le bacche, fantastico Ah, fertilizzante non ne ho, da come si fa il fertilizzante? Il fertilizzante dentro al compost bin Ci deve mettere la merda che fanno i dinosauri La metti insieme alla touch E dopo qualche giorno di gioco Esce Ma dai Fammi fermare un attimo che mi sto mori ammazzato Questi non cagano più Tocco quanta roba che fanno Ho fatto pure 10 giga i proiettili tranquillanti Eh, ho visto Ma che mi posso prendere io? Tu ti puoi prendere la spear Mo' che torno ti crafto il set di ferro No, il set di ferro no Ti puoi prendere la chitina La chitina sta Quello che usavo io Sta dentro l'armadio Sono dei pezzi verdi Con lo sfondo verde Mettiti quella Eeeh Come arma Se vuoi ti posso craftare un fucile a canne mozze I pezzi verdi sono Di costume sempre, no? Eh, nel senso sì Tipo il petto I guanti Gli stivali Quelle cose lì Ok, la prendo tutto lì Ho capito Oh no, mi sale la cazzo di fame Madonna che palle Ho mangiato 200 bacche Un pochino Non è che dico chissà che Dove fa un frigo con la carne anche qua dentro Che sennò non riusciamo E questo invece è il tranquillante come si usa? Con il fucile Con il long neck Però lo puoi usare anche col fucile a canne mozze Comunque ora andiamo Andiamo a catturare un pterodattilo Che ci dobbiamo Gps ma ho piglio Tanto è uno Ci abbiamo due Eh, non è uno più Ma se perdiamo tutto è grave Perdiamo il gps che se ne frega Tanto non è che lo usiamo Ma che cambia il gioco No, il fucile con i tranquillanti No, ormai no C'è più naturalmente tanto metallo Che lo ricrafta subito Anche i tranquillanti Come si fanno? Tranquillanti si fanno con un proiettile di fucile E il narcotico e basta Ah Uno e uno Tipo Sì, come le frecce Però col proiettile L'unico problema è il proiettile Se proprio No, vabbè Fai tipo la polvere da sparo Eh Nel senso La cosa lunga È giusto il proiettile Ah, è qui Casa nostra Allora mi sto ricordando Allora me lo prendo Il fucile Con i proiettili tranquillanti Che mi garbano Ci prendiamo qualcuno Dobbiamo prendere un opterodattile Così iniziamo a volare pure Qual era il Di quelli che volano Quello rosso Quello Quello tutto squacchiato Con la cresta in testa Sì, sì, sì Perché uno è l'argentavis L'argentavis è un uccello È diverso Dove stai che ti aspetta la base? Sto arrivando Sto nel fiume Che sta succedendo? Ah, ci sono dei trodonti Che si uccidono tra di loro Guardalo La base Ecco Madonna Io andrei C'ho tutto equipaggiato Te lo dico Quindi se muoio Per notare Eh, allora Fai attenzione Ma pure il fucile Ti si è equipaggiato Perché? Eh Mo te ne faccio uno Te ne faccio uno Lo faccio io Faccio io A quel livello Che me lo craft Eh, fucile a canne mozzo E lo vedi Se ti puoi craftare Nivello Quanto c'hai 700 punti? 250 È tanto Sì, sì Non c'era stato niente Ancora Eh, fai conto che sti giorni ci sta la cosa Ci sta Ci sta il per due Per ogni cosa Eh, expo Possiamo passare Che cazzo è? Eh, l'ho spostata L'ho spostata un po' in diagonale Perché non c'entrava la porta Di metallo Io piango Andrea C'è la tua dedizione La dedizione Basta che fai quello che devi fa Quando fai una cosa Ho fatto una torretta Ma Non la posso fare più alta Che cazzo di livello è il fucile A canne Lo vedo Ma porco Fatti una piccola torretta Tipo metti qua E spari Oddio Non la posso fare Andrea Eh, lo so che non la puoi fare Perciò Eh, un momento Vai nella Vai nella zattera Vai a prendere il ferro Eh, aiutami a portarlo di qua Ci sono 700 di ferro Dov'è la testa Tipo del Del coso che c'ho Andrea Eh, non l'ho mai fatta Non l'ho mai fatta Non ce l'avevo neanche io Per resto così Sì, o se no ti metti una di pelle 200 Io ti Io voglio vedere il tuo costume Eh, mo me lo devo ricraftare Perché sono morto prima Sono morto di fame Sì, io sono andato a mangiare Col personaggio sdraiato Che sentivavo freddo Caldo Non so che Qual era il problema Torno Sei morto Ah Ma non te la puoi riprendere No, perché ero morto Da tipo più di 10 minuti E quindi il set Tipo Ma c'avevo solo quello Ma è solo metallo Che se ne frega Comunque non so proprio dove Il ferro Il legno mi serve Sai che mi crafto Della testa Visto che ci sono Eh Se c'è la chitina Craftati di chitina No, mi sa che non ce l'hai neanche sbloccato Eh, no Eh, capito Guarda Furcap posso fare Con che? Con quelli peli Ci servono i capelli O peli O piume Eh, non si sa Non so quali sono gli animali potabili Penso al nord Sì, in montagna Però non so quali sono gli animali Forse devi tipo Tipo potare il mammut Tipo il mammut con le forbici E gli tagli i peli Gli tagli i peli del culo Accessori Tutto qui Light fire Cazzo sblocco Qua non c'è niente Blocca cose che ti possono servire Hide the hat Andre Che hide the hat Eh, sì Il cappello di Hat Comunque Vai Perché hat Si pronuncia Ho Si legge Ho Ok, vedi che lo sai Pizza hut Eh, sì Esatto Pizza hut Cazzo è bella la porta di metallo L'ho fatta giusto per fare il frocio Che magari non serviva Ma la volevo fare io Proprio per il giusto personale Poi dice Questo è Sì Samueste Giocando Let's carry Bafio 2017 Sì La versione Quella deluxe Quella dove c'è Bafio E' la versione Nansed Che ci sta Bafio Che si mette addosso Tutte le cose Costose Della casa E poi muore Ok Ti avete detto Sta poca fiducia XD No Vabbè Se ti impegni Mi fai ricredere Io sono pronto In qualunque momento A ricredermi Però non riesco a cambiare il costume A metterci tipo Le skin Queste qua Deve trascinare Ma che mi stai a dare Ma non erano per me Eh Sono troppo Ma cassini di ferro Sono il massimo Ma mi mancano i lingotti Ok Dovrebbero fare Dovrebbero fare Un inceneritore Stile minecraft Quando metti la lava Che se ci butti una cosa sopra Si instant distrugge Per sempre Così tipo Se devi buttare una cosa Non rimane due minuti Per terra Fa casino Bella sta casettina Come fa una zattera A girare Eh boh Sfida le leggi Della fisica Eh lo sai Ci facciamo la catapulta La faccio io Eh non ci sono Basta che le andiamo a cercare Ma hai ripunito la zona Perché ora non c'è No No Ogni tanto tipo Si triggerano e vanno via Non tornano mai più Poi una volta Ti giri Stanno tre t-rex Due carno Dopo tipo di dirigiti Non ci sta più nessuno Per un po' Stavo andando a cercare Io che cosa Ma che ti sei preso Tutto Ti ho detto che te lo faccio uno Ridammelo sto fucile Perché Ormai ne fallo per te Ma mi devi dare i colpi Io di te non mi fido Che gli spari il tranquillante C'ho solo dieci colpi Ah andrei Facciamo cinque Sì ma io Io devo fare un fucile a canne mozze Io il fucile a canne mozze Non lo voglio usare Quindi sarà per te Il fucile a canne mozze Ah ok Intanto ti splitto Servono tanti lingotti Dammi Non me li devi splittare Me li devi dare tutti E poi mi devi dare anche Il fucile long neck Anche piuttosto velocemente Eh Te ne faccio uno Ma aspetta che si cuociono i lingotti Non lo so usare il fucile a canne mozze Il long neck Più o meno ho capito Come si spara Ma io non ho mai visto Il fucile al canne C'è nel senso Non lo metto Sì infatti Infatti Esatto Come non mi fido mai Per niente Eh Se proprio devi usare un fucile Uso un fucile Che mi ricordi Fammi sentire dai Che ti ricordi Che il primo fucile Questo e qua L'ho fatto io Quindi Creare il fucile Quale titolo ti dà Niente In un altro server Esperienza Eh va Esperienza Allora Che cazzo fa Andiamo a cercare Un fottuto Fregati in culo Aspetta Prima ci dobbiamo preparare Che mangia Che cazzo mangia Le bacche Il putterodattilo Mi ricordo Mi ricordo Aspetto Aspetto la risposta Della chat Che mangia Il putterodattilo La carne O O le bacche Mi pare Mi pare di ricordare Che fossero le bacche Tutte e due No le bacche Già ce le abbiamo La carne Invece magari Dobbiamo andare A farmare un po' La carne Mangia Che palle Ma da quando È carne Si lascialo lì La carne ce l'abbiamo C'è tipo 200 di carne Nel frigo Ma si Si Carne cotta Ma ecco Quello Ma carne cotta Non la mangia Le dinosave C'è la mangia Ma non gli da niente Fammi usci un attimo Col tricerato Vado a prendere Le nere Le signore Di colore Le bacche Di colore No Prodo a prendere Pure io Quell'altro Aia Ho preso Un pulaccio Aspetta Questo c'ha tipo Un livello In più Weight E lo 71 Quella dei pesci Gli piace di più Eh vabbè Fazienza Se ne farà una ragione Si Gli fa Deve fare lo schizzinoso Proprio Però C'ha tipo La stamina Di una merda Il tricerato Faccio un metro È già super stanco a morte Si ma intanto Te ne prendi 300 Un po' Si si lo so Però tipo Per essere leggermente Più veloce Non lo so Potenzialo sulla stamina No no Devo Eh Quei ti ostini A mettere tutto Epic Con altranza Proprio Tipo down Height Togli le Togli le shadow Vedi che ti si risolve Il gioco Io lo tolgo Quando lo tolgo Le faccio 60 fps Fissi Da tutte le parti Non l'ho mai più laggato Ma Un giusto compromesso Secondo me 88 Possono pure abbastare Un centinaio Niente Continuo È che abbastanza Vedo scappare qualcosa A destra Non mi preoccupare Mi devo preoccupare Che sta scappando Proprio dove sto io Ma scappando In che senso Ce li ho Ce li ho Ce li ho i narcotici Ho 83 narcotici C'è un Un parasoro Che scappa Da chi Quello è il problema Da nessuno Forse Non mi torno a casa Che tanto le bacche L'ho presa Ma va Andre Ma che dici Ma che dici Ti devi preoccupare Quando vedi Se scappa Vuol dire Qualcuno Gli ha fatto danno Eh sì sì Eh Quindi O è un dilophisauro È un dilophisauro Scemo Che poi tipo Si è stufato E non l'ha rincorso più Se è un raptor Invece mi dovevo Stattendo C'ho il dinosauro No È dall'altra parte Del fiume Quindi non è Quello che sta Il parasauro Ecco 1, 2, 3 E 4 28 Solo 28 Che sta presa per il culo Troppe bacche C'ha questo però Anche rotto Non si riesce a muovere Quando il bacche c'ha Facciamo Così va Eh Che gli basta Come stai Tutto bene? Non lo toccato Non lo toccato Beh Eh tu tu Prendi per il culo Vuoi fare il pagliaccio E perdi Tutte ste bacche Sì Tutte ste bacche Non so dove cazzo Metterle Come le mangio Becca ma non prende Non è che non prende È che ci vogliono Due beccate Per rompeggio spuglio Quale è il problema? Ah non lo sapevo Eh perché non osservi Io l'ho scoperto La seconda volta Che ho preso le bacche Che sentiva tipo Però non mi Non prendeva niente Era